Come abbiamo visto, dopo aver individuato il candidato sindaco di Campobasso, il centrosinistra o Campolargo ha anche individuato il candidato sindaco di Termoli. Uno scelto dal PD, l'altro dai Cinque Stelle. L'impressione è che l'alleanza PD-Grillini-Molise funzioni in vista delle elezioni dei sindaci dei due maggiori centri della regione. E sempre dal centrosinistra, o meglio dall'ex candidato presidente Roberto Gravina, arriva una piccata puntualizzazione sui fondi per il decreto Molise promessi in campagna elettorale, ma mai arrivati, dice Gravina. Ma l'oramai leggendario decreto Molise esiste o non esiste? Ci si sta lavorando oppure le misure che il Governo nazionale intende mettere in campo per la sanità del Molise sono disseminate in altri provvedimenti? Così Roberto Gravina, grazie alla collaborazione della senatrice del Movimento Cinque Stelle, Elisa Pirro, ha lavorato per far depositare una interrogazione indirizzata ai ministri Schillaci e Giorgetti. A entrambi, con l'atto di sindacato ispettivo, chiede se intendano intervenire con iniziative anche di carattere normativo per salvaguardare la salute dei cittadini molisani e quali risorse intendano utilizzare, stante l'assenza di specifici stanziamenti, nella legge di bilancio 2024. Fin qui Gravina per il centrosinistra, che è già sceso in campagna elettorale. Sull'altro fronte, quello del centrodestra, ancora nessun segnale di nomi ne vengono fatti in grande quantità, sia per il candidato sindaco di Campobasso che per quello di Termoli. Ma la verità è che al momento le bocce sono ancora ferme e le novità vere devono ancora arrivare.